ciao e ben ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video volevamo solamente aggiornarvi di una cosa oggi alle 3 faremo un video che poi verrà caricato verso le 5 perché ci vuole tanto per caricarlo faremo una challenge di secchiato d'acqua ci sarò anche io allora faremo un altro allora iscrivetevi spolliciate iscrivetevi attivate la campanella commentate e vi piace condividete questi video e iscrivetevi al mio bellissimo canale chiamato tim tommy dj tim tommy dj tim tommy dj e poi se volete entrare nel nostro cab si chiama forti dj potete entrare anche appena è iniziato il bravo star se c'è un giallo vabbè tanto voglio osservare il nome forti dj ne abbiamo 29.829 abbiamo 18 membri mi sembra che vs leon beatriz super luschi beatriz è mia cugina vs leon gx danilo questo qua che è mio cugino l'ha pure scritto ieri bomben in campo gx christian sono nostri iscritti grandi 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 siete grandiosi e se volete essere grandiosi anche voi iscrivetevi e non andare a giocare le partite perchè su cosa era solamente un preavviso ma come è un preavviso io voglio giocare è un preavviso è un preavviso ciao a tutti siiii ok allora fatti cadere il telefono fatti una partita con voi poi chiudiamo il video fatti ti sentite un posto e cazzo il telefono fatti dai basta marco no buetica sono bestie perchè rompi dei schietti perchè si io che è come un'uccisione per me per te pure per me era come un'uccisione non ci do più dai marco basta che si spera di fuori oh oh guarda che scemo alzo della big bubble la big bubble oh big bottle ah c'è un bambino cattivo si è molto cattivo cinque quindi ok ciao a tutti eeeh ciao vi saluta anche bo ciao